bella ragazza e benvenuti in questo nuovo video io sono Ej e oggi siamo su Verdi13 allora il video l'ho già fatto ragazzi e devo dire che è stato orribile non vi spoilerò niente prima di iniziare ragazzi anzi io l'ho già fatto però vabbè prima di iniziare devo salutare Jimbell0911 con la faccina felice dai lo aggiungiamo perché me l'ha scritto vabbè ragazzi spero che vi piaccia questo video e iniziamo bella ragazza e benvenuti in questo nuovo video ci siamo su questo bellissimo gioco del Cazzo ma il volume a quanto ce l'ho allora ragazzi siamo su Verdi13 perché volevo portarlo ragazzi ok stavo scherzando in realtà ragazzi volevo portare oggi Verdi13 perché visto che non ho nulla da fare volevo accontentarvi con un bellissimo video si spera di Verdi13 si spera comunque ragazzi se non sentite nulla aspettate ragazzi che allora facciamo una cosa non devi farmi così però vabbè facciamo una cosa la mettiamo a 50 dai beh forse ora va meglio dai allora innanzitutto Tanika ragazzi oggi la vinciamo oggi la vinciamo ve lo dico io la vinciamo ragazzi io però vorrei sapere una cosa a voi chi è il mio youtuber? chi è il mio youtuber? per caso chi è la geforce? che io lo uso per fare i video secondo voi devo cambiarlo? siamo in quattro come siamo in quattro? non ho neanche visto i messaggi delle delle persone che hanno abbandonato non l'ho visto mi è sfuggito mi è sfuggito proprio e vabbè e vabbè e vabbè comunque ragazzi io 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 sinceramente sono uno che si preoccupa molto di ste cose perchè io vorrei che tutti i video fossero belli fossero ascoltabili invece invece lo sono più o meno diciamo perchè ogni tanto ragazzi io oltre a fare i video quando non ho nulla da fare appunto oltre a fare i video mi guardo un po' i miei vecchi video e sinceramente una volta l'audio era il migliore possiamo dire no suggestion come suggestion? vieni qui ma come allora vabbè via no ragazzi se vuole me l'ho visto dalla finestra l'ho visto dalla finestra ma perchè vuoi me? ma che ci ho fatto? ciao wiii oh mio dio no e no e no mi ha chiuso sto minchione ahhh si ciao come va? sono leggeri vai 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 si addio vai ok via 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 ma perchè non gli spari? c'hai un benedetto fucile? guarda che 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 è? via 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 Non me ne frega un cazzo di te Sto scazzando Entra subito Non entrare più Sì No No l'ho mancato come è possibile No 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 l'ho mancato No l'ho mancato Eeeeh Fa un culo va Ragazzi Avete chiamato tutti i carici per caso? Vuole sapere Ci sono tutti che Vabbè ci sono tutti che largano No Non lo so ragazzi Non ho mai capito Credo che gli ammessi siano i ping Credo che morirai prima o poi Ciao Come va? Che bella Ragazzi per favore Qualcuno mi dica che è a Free Fire Sapete sono curioso Perché a Free Fire c'è un bel gioco Che non posso portare E que Eeeh Ragazzi Ma avete visto pure voi? Ci siamo teletrasportati Va bene Ok 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 Va bene Ci siamo teletrasportati Perché Con Jason funziona così ragazzi Dunque ragazzi Io ho molti video da portare ancora Che non ho ancora portato su YouTube Quindi ragazzi Dopo questo vi dico subito che Eeeh Che c'era un video di Credo di a Free Fire 2 dei ad Credo Poi non lo so eh Quindi chi lo vuole saltare Lo salti pure Con tranquillità Tranquilli Non mi offendo Chi lo vuole vedere lo veda E chi lo vuole vedere Fa quello che vuole A me non importa Chi lo guarda e chi non lo guarda Sicuramente Però vabbè Rimangono solamente questi due ticci Che Che Ah 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 Ok Ok Ma Il russio di turno Farà tante cose Qualcun 2 Farà tante cose Salve Perché mi guardi Perché mi Questo se la sta passando Se la sta spassando ragazzi Eh Giustamente uno stronzo Ogni tanto ci vuole Ogni tanto Uno stronzo ci vuole Ma io che cos'è mi sto facendo Della mia vita Che sono tutti coglioni A parte voi Voi siete bravi Perché ho Perché ho comprato sto gioco Perché Perché ho speso 30 euro 30 euro Va bene Ok Sì Va bene Io vorrei sapere perché Come fa a piacere così tanto sto gioco Vorrei sapere lo plis Ditemelo 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 plis So che ve lo ripeto sempre Devo saperlo però Perché mi piace così tanto Eh Urla quanto vuoi Che non scappi Te lo dico io Mi 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 Mens Mens Ma non l'avete chiamato Tommy Jarvis No eh No Perché se ti bastare Che non volete che io rinasca Allora Allora Io ragazzi C'ho una scatola di biscotti E non ho paura di caglia Cosa c'è scritto E' bella questa scatola Molto delicata Ed ecco Ed ecco c'è un odore di merda Prendete anche voi Ragazzi Adesso vi metto subito webcam Così vedrete l'offerta che vi farò Ok Allora Sì ragazzi Vi iscriverete A questo bellissimo canale Io Vi darò In omaggio Ma che capelli di merda Oh ragazzi Che capelli di merda c'ho Aspettate Oh Direi che ora va molto meglio Sì Ragazzi Allora Vi farò questo offerto Se vi iscriverete Se vi iscriverete Vi darò Questa bellissima scatola Vuota È un offerto da non perdere ragazzi Facciamo una cosa ragazzi Per tutto il video Per tutto il video Devo stare con questo Coso In testa E poi ragazzi Io oggi pensavo Di poter metterci la testa dentro Ma non posso Non ci sta Peccato Peccato Vabbè Li mettiamo A posto Siamo Forse Fai Sì Oh La pura Oh la pura La pura Ragazzi Perché voi siete scarsi No vorrei sapere Aspettate Com'è che si fa Io vorrei vedere Come uno screenshot Ragazzi Attenzione Abbiamo uno screenshot Che strano però Mi dice che c'è uno screenshot Allora vediamo Il profilo di tap Che tristezza Che tristezza Sto uomo Questo Quest'uomo Mi fa Vabbè Se è privato Se è privato Intanto gli altri Giacomo Da Face 2 E' meglio Meglio Bello Eh E lo va Intanto Io direi di vedere Anche il profilo Di inferno Perché se è inferno Questo ti sembrerebbe Ah Quello è il diavolo di Natà Ma perché? Ma sarà italiano? Non credo Ma perché tutti hanno St'a medaglia Pulicie di primavera Io non l'ho fatta 2019 2019 E il 2020 E il 2020 C'era qualcuno Amico fidato Chissà Chissà mai Chissà Chi è E' un coglione Ah Aiuto Mi sto cadendo Ciabatto Dai ragazzi Dai Sto video è bello Un like Ragazzi Ma parlo Come i bm Di youtube Per piacere Occhi Clamo Che questo nuovo gioco Per ballare Di poco E poco male Allora 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 Tanto Un canale Scompasso Non so neanche come Chi è Per favore Però Uccidi E' un'implice Che non ho tutto il tempo Su questa terra Del casso Aiuto Ma che Bene Perché non fallisce Ah Hai fallito Il gioco Ah no Non ha fallito il gioco Ha fallito Dopo Madonna Però Devo trovare Proprio Gente Che Nella stessa Lobby C'è un suo amico Madonna Devo trovare Proprio Devo trovare Fintino Se fossi io Ragazzi Sinceramente Io Se trovessi un mio amico In questo Bellissimo giochino Non è che Non sarei Tanto bravo Sinceramente Ma Visto che sei così Stupido Perché non Mai sulle scale Dico Eppure Devi poi scappare Guarda che E' morbido Mica c'è Dando la caduta No Assolutamente Perché Spacchi la radio Io non voglio sentire Cioè io voglio sentire Michael Jordan Aspetta Però ho detto Una cacciata Sinceramente A Jason Allora A Jason Non piace A quanto pare Michael Jackson Perché nella radio Danno anche Michael Jackson Dammi tu cosita Che mi ha La cosa bella Dello spettatore Tra l'altro Quando uno E' nascosto Nell'armadio Che puoi muovere La telecamera Cioè pericolamente E' come se Vaffanculo E' come se stessi Giocando tu Dai 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 Vai Please Sbrigati Per favore Ti voglio bene Ti voglio bene Anche a te Ah ma è da lei E dalla Russia E dal Russia di turno Però scappi Pezzo di merda Però scappi Allora vediamo un attimo il profilo di player Che secondo me potrebbe essere Un buon amico Ah ma perché no? Perché mi dice modifica profilo Cazzo Bello Bello il mio profilo del cazzo Ma come sta la stim? Come? 102 nuovi commenti di cosa Va bene Quindi c'ho delle cose Messaggio della comunità Che va bene Ok Ok Io sto scoprendo il mio profilo ragazzi Eh i doni non mi erano mai fatti Quanto l'ex per me rimane? Tacciamo da l'ex per 24 Ah 154 Per il livello 13 E come faccio? Semplicemente nerdando soggetti strani Ma Wolfing Go Vete Non lo farò mai Vediamo che cosa mi sono presso Un Jason Che fa team Ti fa teaming Fa teaming sto Jason Ah ma è morta là Ah no è fuggita Ma perché mi perdo tutto io? Non mi sono perso una cosa Mi sono perso solo una Non mi sono perso la mia morte Uccidio Jason Ti voglio bene Non te l'ho mai detto Ma ti voglio bene Ma non poteva esserci la camera libera La videocamera libera del cazzo Dai Scappa Madonna Vai Vai Corri Veloce Non è il momento di fare Michael Jordan No No però non devi ballare Vai coglione Non ballare No Basta È roto Figlio di puttana Ti ammazzano Vai Vai Veloce No Ti prego Vai Vai e basta Vai e basta Jason Se vedi però che sto scappando Non puoi ucciderlo Eh Eh Cosa Che stai facendo Ma Ma che ca... Ma ma Eh Ma perché Ma 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 no Ma what the fuck Ma 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 allora veramente mi vuoi male Allora veramente mi vuoi male Cazzo Poi si è confuso Questa c'è Allora Cazzo No aspetta Però Eh vabbè Ma vabbè Uccidilo Mancano 24 seconde Ma perché non scatti Perché Gesù perché Muori Schiatta Schiatta muori Figlio di putt Va bene ragazzi basta Purtroppo Non sono riuscito neanche oggi A fare un cazzo Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi E segnalate sto qua Ciao ragazzi I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you It's to the point why I love you and I hate you Love you and I hate you Love you and I hate you Grazie a tutti